Città di Anagni battuta sul campo del Trastevere, 3-1 il finale che condanna la formazione di Mister Mancone. Bianco-Rossi in vantaggio in apertura, gran destro dal limite di Russo che firma l'1-0. Il Trastevere trova il pareggio alla mezz'ora con il colpo di testa di Tarantino che batte così Giuliani. I padroni di casa insistono ed in pieno recupero ribaltano il parziale con il calcio di rigore di Bertoldi. 2-1 Trastevere. Ad inizio ripresa chiude i giochi taglia roll a segno con un colpo di testa in tuffo. Finisce 3-1, il Città di Anagni resta fermo a quota 25 punti in classifica, in piena zona play-out, a meno 5 dalla salvezza diretta.